Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Game Play It. Oggi un episodio extra, un episodio su Escape from Tarkov. Non siamo soli, siamo in compagnia di IBU90. Buongiorno a tutti. Ok, e oggi che cosa facciamo? Oggi voglio mostrarvi, cioè vogliamo tentare, di visitare un luogo specifico della mappa, entrando come scav, quindi nella modalità che non ci fa perdere praticamente nulla, ci viene dato un equipaggiamento a caso. Vogliamo andare al Repair Shop. Perché? Perché vi faccio vedere subito che nel mio hideout io vorrei costruire la security di livello 1 e mi serve questo rotolo di metro. E il rotolo di metro si trova in un capanno di attrezzi nel Repair Shop, appunto. Quindi sfrutteremo le notevoli abilità di IBU90 nell'orientarsi nella mappa di custom e andremo a cercare di recuperarlo. Premetto che siamo palesemente nabbi e quindi se ci vedete morire è normalissimo. Sì, sì, ma muoiono anche gli streamer famosi. L'hideout è molto importante perché ci permette di costruire dei banchi da lavoro che ci permetteranno di usare dei componenti per craftare degli oggetti, craftare delle bende, dei medicinali, fino alla possibilità di recuperare più velocemente la salute, fino alla possibilità di minare bitcoin, quindi guadagnare soldi, crearci diciamo una sorta di azienda nostra e quindi generare soldi, soldi che sono tra l'altro utilissimi per l'acquisto dai vari traders di equipaggiamenti vari eccetera eccetera. Allora, iniziamo con SCAV. Vi viene dato questo bel fucilozzo qui, un casco da moto che toglierò subito. Customs. Partiamo le 16.16, già un po' tardino però, vabbè, ti invito. Vediamo tu come sei messo. Eh, dai. Non meglio. Non meglio, il casco lo togli anche tu subito? Sì, sì. Importantissimo è l'audio in Tarkov. Bisogna ascoltare, fermarsi, sentire dei passi, sentire dei cespugli e quindi questi caschi non proteggono nulla e tappano un po' le orecchie. E i miei occhiali da sci poi che valgono una fortuna da vendere, quindi speriamo di portarli fuori. Vediamo, non è detto che ce la faremo, però intanto vi intratteniamo un po'. Perché non ce la facciamo, non potremmo farcela? Perché uno ci uccidono, due potremmo partire lontani in una zona totalmente diversa e come scav si entra a fine mappa, a fine partita. Quindi avremo 10-12 minuti che sono niente rispetto ai 45 minuti di una run fatta come PMC, quindi come personaggio vero, principale, con l'equipaggiamento che scegliamo noi. Quindi gli altri hanno già giocato e noi entriamo verso la fine. Di positivo abbiamo che dalla nostra abbiamo gli scav controllati dal computer e dal server, quindi vedremo come andrà a finire. I scav del computer non ci attaccano fino a quando noi non attaccheremo loro. Se uccidiamo per sbaglio o volontariamente uno scav avremo tutti contro. Della zona mi pare però. Della zona, sì. E soprattutto perderemo reputazione con Skier? No, come crea? Ecco, uno dei venditori. Con Fence credo. Fence? Ah, ok. Comunque uno dei venditori. Sì, è vero, Fence, quello con l'immagine scura. Quindi lui ci bloccherà un pochino il livellamento del suo banco vendita. Quindi è meglio non... All'inizio si può essere ingolositi dalla possibilità di uccidere gli scav, ma per ucciderli c'è sempre tempo giocando come PMC, dove li hai tutti contro a prescindere. Ora stiamo per entrare, vedremo subito in che zona partiamo. La zona in cui dovremo andare è in basso a destra, quindi sud-est della mappa, vicino a delle zone... Beh, magari se partissimo a metà sarebbe il top. In questo caso partiamo... Non so, attendo te per capire dove ci troviamo. Mamma mia che ho uno... E' da park. Ma è da zona totalmente opposta. Esatto. Quindi non abbiamo possibilità di trovare qualche magazzino qua vicino? Siamo... C'è qualcosa o qualcosa c'è. Ok, allora andiamo. Io ho un fucile ingombrantissimo con un mirino ottico a distanza. Controlla anche che tipo di munizioni hai per decidere chi ingaggiare e chi no. Allora, tolgo subito il casco che metto nello zaino. Munizioni che ho sono... Vediamo... SP5. SP5. Sì, poi Ivo è l'esperto di munizioni, quindi mi dice che qualità hanno. Abbiamo 9 minuti, quindi adesso vediamo se... 9 minuti, va bene. Dobbiamo uscire in Factory Shacks o Scav Checkpoint o Passing Between Rocks. Quindi siamo piuttosto lontani, eh. Esatto. Abbiamo 9 minuti. Dove sei adesso tu? Sto entrando in rosso. Come? Sto entrando nel capannone rosso. Ok, il capannone rosso. Quindi sei ancora qua in zona? Sì, sì, sì. Sono passato sotto al treno e sto entrando. Ok, arrivo anch'io. Ecco, le mie uscite sono totalmente diverse, quindi a un certo punto... Sì, perché entrando come scav non avete le uscite in comune, quindi... Beh, io provo ad andare su a vedere se c'è qualcosa nel capannone. Sì. È l'unica cosa che mi viene in mente, perché... Qua c'è il corridoio. Uh, delle cuffie che non posso prendere, però. Vabbè, c'è un borsone. Mai raccogliere come sto facendo io vicino alla finestra. Ho trovato del nastro adesivo, che credo sia importante. Comunque. Intanto io sono uscito, sto controllando se c'è gente. Ti lascio allutare. Ok, no, non c'è niente. Scendo. Dobbiamo andarcene. Sai dirmi... Scav Shucks, dov'è? Scav Shucks... Factory Shucks. Factory Shucks e Scav Checkpoint. È pronta alla pensilina dei Pullman. Ah, ok. Quindi mi sa che è quella la più vicina per me. Sì. Aspetta un po', che c'è... Ho trovato un morto. Un'armatura. Un cappellino. Vedo se c'è qualcosa nelle tasche. Che magari... Ho proiettili. Un caricatore. Nessun'arma. Ok, dai, andiamo. Dove sei adesso? Sono fuori... Lato Nord. Eh, lato Nord è un po' relativo. Io sono verso il treno. Ok, stanno verso il treno anch'io. Ok, ti vedo. Ok. Hai visto? Scrappichiamo i binari, facciamo il punto della morte. Ah sì, per forza. Quindi missione fallita in partenza. Esatto, anche perché abbiamo sei minuti e sono pochissimi. Mi ricordo che comunque da questa modalità non si accumula esperienza, quindi... Salto palesemente mancato. Ma si può? Sì. Credo che dipenda anche dall'abilità di salto che uno ha. Sì. Quindi direi che... A questo punto tiriamo torno e usciamo da di fronte. Sei andato in direzione di... Sì, quindi la muraglia. Da verso il treno? No. Ok. Minch, ho quasi la stamina finita io adesso. Entro. Ok. Ok. Sono uscito a destra e attraverso il ponte di Corosta. Sì, sì, sì. Ok, siamo a Crossroads. Eh, a questo punto non mi fermo neanche a lutare perché abbiamo cinque minuti e corro. Sul ponte. Io non ho ancora... Non ho... Non ho recuperato la stamina, quindi... Mila intanto. Ok. Io ho un mirino che mi permette di vedere lontano. Però il brutto è che non so come spara e se spara ovviamente ci sentono. Esatto. A parte che a quest'ora non credo ci sia ancora molta gente. Perché siamo a fine partita, come dicevo prima. Quindi... Uh, vedo qualcuno. Vedo qualcuno che sembra essere uno scav. Lo scav non dovrebbe farmi nulla, però potrebbe essere un'occasione di recuperare un po' di oggetti. E c'è lì uno scav morto. No, spero che è morto. Questo qua è uno scav. Ok. Quindi dimmi se c'è qualcosa all'interno, ma... Allora, mi dicevi che l'uscita è di fronte al parcheggio di Pullman? Sì. Ma di fronte verso la strada? Sì, da questo lato destra della strada. Ah, qua, più avanti, poco più avanti. Ok. Invece, dove dovevamo andare, dove saremmo voluti andare, in fondo a questa strada, oltre la stazione di fornimento, abbiamo... Aspetta un po' che qua c'è un altro corpo. Esamino subito, se magari trovo quello che mi interessa. Vuoto. Vuoto, vuoto, vuoto. Ok. Ci spuglio qua a fianco al Pullman. Ok. Adesso ti porto... Qua all'uscita. Ho finito la stamina. Qua dentro. Scusa, dove? Qua dentro. Ok. E dov'è l'estrazione? Questa si chiama, nello specifico? Factory Shacks. Ah, ok. Beh, posso salutare qualcosa prima di rindarmene, no? Yes, io scappo la mia uscita, che ce l'ho in fondo mappa. Ok. Ci vediamo alla prossima. Allora, non trovo l'uscita, ok. Factory Shacks. Non mi fa uscire? No. No? Altre uscite? Forse serve a qualche item o qualcosa. No. Devo andare a scav checkpoint. Ah, no, no, aspetta, è uscito, uscito, uscito. Il timer, ok. Devo stare proprio qua nell'angolino. Ok. Sì, devi stare lì attaccato. Intanto, allora... Sto facendo una cosa da non fare mai, sto correndo in mezzo alla strada come un disperanza. Ok, recuperato qualcosina, adesso andiamo a vedere effettivamente quanto abbiamo fatturato. Mentre il buon IB90 esce, questa esperienza qui non vale niente, da quello che ho capito. 8 minuti di ride, abbiamo recuperato un bel po' di roba. Quindi, vediamo un attimo. Intanto metto via la roba del ride precedente. Allora, abbiamo recuperato un bel po' di roba. Quindi diamo un'occhiata. Uh, ho preso un SSD e l'avevo nello zaino. Mi sa che sono importantissimi quelli. Sì, ne valgono anche tanto. Però credo servano per quest, quindi nel dubbio io non vendo niente. Prendo occhiari. Io per le quest che per il rifugio. Sì, per il... Come si dice? Per il... Aspetta che non riesco più a recuperaggiare... Per il farm di... Bitcoin. Bitcoin, anche per l'intelligence. Ok. Allora, devo mettere questo zaino. Lo metto qua dentro. Ok. Andiamo a vedere che cosa abbiamo guadagnato. Non abbiamo sparato un colpo. È stata una cosa veramente... Da brividi. Tu intanto stai uscendo? Sì. Sì, ce la faccio. Ok. Perché ho 40 secondi e mi manca ancora un bel pezzo. Allora, voglio andare a vedere adesso. Allora, dimmi un po'. Chi vendo le armi Mechanic? Le armi Mechanic. Ok, allora, Mechanic mi compra. Vediamo un po'. Quest'arma qui 43.000, eh. Mamma mia. 19 secondi mi mancano. Sono riuscita adesso. Lo devo smontarla prima. Magari tolgo l'ottica. Perché potrebbe essere importante. Assolutamente è l'ottica che vale 20.000. Sì, infatti. Adesso io provo a equipaggiarla. Poi, unload. Scarico il caricatore. Poi, vediamo un po'. Apro. Tolgo l'ottica. Ok. E vediamo adesso quanto me lo valuta. Ovviamente se faccio delle cavolate, ditemelo in... No, vale 32.000. 8.000 l'ottica. 4x. Ma io vendo solo l'arma. Vendo l'arma. I colpi... Sì, che non lo so. Shotgun, grizzly. Bu. Vediamo un po'. Le lampadine sono importantissime. Anche le spark plug. Tutte cose da tenere. Io questo qua... Le grizzly vendile pure, che sono... Scarse? Sì. Sì, sì. Allora vendo tutto. Ok. E intanto ci facciamo... Anche questo pompa qua non mi dispiace. Quindi 35.000 mi sono già pagato praticamente un'assicurazione. Che pompa è? Eh, non ho visto. Adesso vado a vedere. Perché volevo vendere... A chi vendo gli zaini è un MP 153. A chi vendo gli altri invece schiera gli zaini? Ragman. Ragman. Ok. No, non me li compra gli zaini. Se no, Fence compra tutto. Ok, Fence. Allora, vediamo un po'. A Fence vendiamo. Che poi alla fine dite le tengo, non le tengo. Ma alla fine se ve le mettete sono cose tante volte visibili che vi fanno beccare, che vi fanno vedere da distanza. Quindi non ha senso anche il cappellino, questa armatura qua, è mimetica, costa 7.000 ma non mi interessa venderla. Quindi vendo il coltello, altri 13.000 e alla fine, cavoli, abbiamo fatto un bel 50.000 e abbiamo tirato i su. da quest'area inutile. Questo anche per dire che io ero uno dei primi preoccupati per il fatto che, dato che sono scarso e muoio sempre e elimino, diciamo, tutto quello che ho adesso nella stash, quindi negli oggetti che ho, ma in realtà, se ci pensate, non è difficilissimo la scav run, perché è breve, non c'è quasi nessuno e qualcosina è riuscito sempre a portarla via. E soprattutto nel momento in cui lo portate via, guadagnate soldi. Io ho partito con 500.000 rubli, adesso ne ho 582.000, calcolando che ogni run che faccio come PMC sono 20-30.000 di assicurazione e se guardate anche le statistiche che ho qui, ne ho fatte 9, ne ho perso in 7. Quindi 7 volte, 2 volte sono sopravvissuto e 7 volte sono morto, quindi no buono, insomma. Quindi, niente livello ancora, aspetto di livello 4, le mie skill sono queste, stanno salendo pian piano, anche se non è che sia molto... Non so anche questa skill memory che cosa voglia, che cosa cambi salire in skill di memory, però, vabbè, intanto tante altre sono ancora bloccate. Sto salendo anche... Per far vedere, Indy, che per fare la prossima scava avrai un timer adesso perché non si possono fare... Piacere, esatto. Piacere. 19 minuti per prendere in mano questo tizio qui che sembra avere un bel fucile da cecchino che sarà... e degli stivali di gomma. 19 minuti, più o meno avete, non so se quanto, 25 minuti di attesa tra una scava e l'altra, quindi potete farvela col PMC, col vostro personaggio principale. C'è la scelta tra giorno e notte, scegliete la mappa, scegliete se partire alle 18. Sono tempi abbastanza complementari, nel senso che qua più avanza, c'è una e 12 ore più dell'altra, quindi in una sarà l'imbrunire, diciamo, e nell'altra sarà l'alba. E quindi... Potete anche consultare le mappe a quell'ora le troviate. Ovviamente poi avete le missioni da fare, io sono riuscito a completarne finora solo una, ma credo che tutti e due ne abbiamo completata una sola. No, tu due, perché tu hai sbroccato anche Jäger, con il recupero di una mappa, credo, di un oggetto da WUTS. Un oggetto di informazioni da WUTS. Ok, che potete vedere qua nelle tasche, avevo Find Jäger Camps on WUTS, quindi qua praticamente dobbiamo trovare il campo di Jäger e trovare un messaggio criptato e portare fuori il messaggio criptato da WUTS, una mappa completamente boschiva. Quindi lui ha sbloccato, Ibu90 ha sbloccato questo personaggio, questo venditore e io non ancora. Insomma, abbiamo fatto una run cercando di recuperare del materiale, abbiamo recuperato dei soldi, quindi io non la definisco proprio un fallimento, perché siamo andati in casa relativamente tranquilli, a parte te che hai finito con pochi secondi di timer residuo. Alla fine del timer si muore. Fatemi sapere se vi interessa magari riportare questo gioco, magari una sera in live in coop, in modo da morire tutti insieme. E fatemi sapere, intanto io vi saluto. Ciao ciao! Tutti anche da parte mia. Tutti anche da parte mia.